Eccoci qua cari amici appassionati di camion, camion vintage, camion vecchi, vi faccio vedere un camion, un autocarro particolare che apparteneva ai vigili del fuoco, dovrebbe trattarsi di un leoncino qua, mi è stato detto che è un leoncino, un UM leoncino e eccolo qua insomma, è qua in bella mostra, ripeto è un camion un po' particolare proprio perché appunto fosse di questo modello non ricordo appunto di averne vesti, e niente siamo qua appunto i compagni di Claudio che mi ha portato in questa zona, un po' per invogliare qualche vero appassionato a prendere questo autocarro, intanto vi faccio vedere così, abbiamo qua una pompa, pompa della benzina, una bella pompa della benzina da metterlo in un salotto, esatto, una pompa esatto da arrenare la caccia, vediamo un po' se riusciamo ad aprire qua, eccolo qua, l'autocarro diciamo camperizzato, qualcosa interessante qua dei vigili del fuoco, insomma direi che è molto interessante, poi ripeto, se qualcuno è interessato appunto ci penserà qua, bravo Claudio a fornirvi qua tutti i dati, e niente insomma, saluto qua Augusto, Marco che insomma conoscono bene questa zona, saluto Michele e Just, Just che mi ha iscritto il canale video, saluto Gaetano di Stresa, Gaetano di Stresa, eccetera eccetera, insomma io vi faccio vedere questo leoncino, un leoncino per l'amico Vittorio Sabrini, lui prenderebbe tutto ma ha qualcosa di burocratico a casa insomma, e niente dai, insomma abbiamo presentato questo autocarro diciamo camperizzato, interessante, adesso facciamo vedere, guarda un po' qua, Claudio riesce ad aprire la porta qua, questa non si apre, il gioccolato non si apre, non si apre, insomma, bloccata, se era la gioa prima eh, dici? Eh sai, eh no, no, che giochi? L'ho aperta, l'ho aperta, vedi che abbiamo parlato della gioca, cazzo, eh, insomma lo spirito qua eh, ci ha dato la carica, guardate qua, autocarro qua, eh, interessante eh, saluto un po' tutti gli amici appassionati di camion, saluto tutti i volontari dei Vigili del Fuoco, tutti gli appassionati appunto dei mezzi di soccorso eh, tutti quanti, piccoli amici, tutti quelli che mi dimentico sempre, abbiamo detto Gaetano da Stresa, tutti quanti. Qui è il pezzo dove mettevano le pompe, i Vigili del Fuoco, ecco qua, saluto, saluto anche e bravo Pietro, appassionato di trattori qua eh, e niente, qua abbiamo bellissimo camion dei Vigili del Fuoco, se potete vedere le pompe di dietro dove attaccavano gli idrati, eccoci qua, vediamo un po' qua gli attacchi, ecco qua, interessanti eh, qua direi che insomma un camioncino appunto, sì, un camioncino molto interessante, d'epoca, eccolo qua ragazzi io ve l'ho fatto vedere, anni sessanta, che è questo qui, è un OM leoncino, poi vediamo se ci trovano appassionato o qualcuno, eccoci qua, ragazzi con questo vi saluto e vediamo, sembra che abbiamo fatto tutto Claudio eh, dietro qua tutto sì, eccoci qua, dai va lì, saluta qua gli amici Claudio, mette fuori ormai Claudio, ciao amici e alla prossima, salviamo salvabile, salviamo salvabile, salviamo salvabile dalla rottamai, esatto, salviamo quello che non si deve mandare dalla rottamai, ciao a tutti, viva la giusta, attaccavano, fruto Max, Walter, Alberto, tutti quanti Alessandro, attaccavano. Grazie.